Come ti sei trovato in questo film? Mi sono trovato perché mi hanno chiamato e mi hanno detto vuoi doppiare un personaggio? Io non l'avevo mai fatto e devo dire che non è proprio una cosa semplicissima ma è fantastico. C'è avuto Marco Guadagno il grande doppiatore che mi ha insegnato a farlo me lo faceva vedere proprio con lo sguardo perché ragazzi posso approfittare di voi per dire che i doppiatori italiani sono dei grandi artisti e che rendono il cinema ancora più bello quindi mi sono divertito. Si chiama Todi e un piccione in piccione vorrebbe stare in mezzo il classico emarginato, quello che tu lo vedi a prima vista c'è antipatico, invece poveretto lui vorrebbe stare in mezzo, vuole stare in mezzo Grazie Prego